In questo esercizio abbiamo una studentessa che lancia un mazzo di chiavi verso l'alto ad un'amica che si trova 4 metri sopra di lei e le chiavi vengono afferrate dall'amica dopo 1,5 secondi. Viene chiesto di calcolare la velocità del mazzo di chiavi sia al momento del lancio che nell'istante in cui vengono raccolte. Allora, la situazione è questa, abbiamo un'amica che si trova a una certa quota di y con 0 che è pari a 0 e da questa quota lancia il nostro mazzo di chiavi con una certa velocità v con 0 e all'istante t con 0, immaginiamo di poterlo porre uguale a 0, all'istante t con 1, quindi dopo 1,5 secondi, le nostre chiavi si trovano a una certa quota y con 1, y con 1 uguale 4 metri, t con 1 uguale 1,5 secondi e hanno una certa velocità v con 1 che dobbiamo calcolarci. Quindi dobbiamo trovare la v con 0 e la v con 1. Possiamo cominciare con scrivere la relazione che ci rega la quota y con 1, la quota iniziale e la velocità iniziale. Sappiamo che la nostra y con 1 è uguale alla y con 0, la quota di partenza, più v con 0 per t con 1 meno t con 0 meno un mezzo g per t con 1 meno t con 0 al quadrato. In questa relazione conosciamo quindi la nostra quota y con 1, conosciamo y con 0 che abbiamo detto per ipotesi s uguale a 0, t con 0 uguale a 0, quindi l'unica incognita, dato che conosciamo anche il tempo t con 1, è proprio la velocità v con 0. Quindi se andiamo a semplificare sostituendo i nostri dati abbiamo y con 1 sarà uguale a v con 0 per t con 1 meno un mezzo g per t con 1 al quadrato e quindi da questa la nostra v con 0 sarà y con 1 fratto t con 1 più un mezzo g per t con 1. Se andiamo a sostituire i nostri dati otteniamo questa velocità che è pari a 10.02 metri al secondo. Una volta che abbiamo trovato la velocità iniziale possiamo ricavarci la velocità finale v con 1 sapendo la relazione che lega la velocità iniziale e finale e il tempo, quindi abbiamo che la nostra v con 1 sarà uguale alla nostra v con 0 meno g per t con 1 meno t con 0, come al solito t con 0 uguale a 0 per ipotesi e quindi v con 1 uguale a v con 0 meno g per t, dobbiamo sostituire il valore di v con 0 che abbiamo trovato e il valore di t con 1 che conosciamo dai dati, sostituendo questo viene fuori meno 4.68 metri al secondo. Il fatto che sia minore di 0 significa che in realtà in questo punto la velocità è negativa e diretta verso il posto all'asse delle y, quindi in realtà nell'istante in cui l'amica prende le chiavi non si trovano nella fase di salita e le chiavi ma già nella fase di discesa. Sono salite fino a una certa quota, sono le discese e vengono afferrate quando stanno già riscendendo verso il basso. In questo esercizio abbiamo un sasso che viene lasciato cadere da un'altezza di 30 metri e contemporaneamente allo stesso istante un altro sasso viene lanciato da terra verso l'alto e si trovano tutti e due sulla stessa verticale. I due sassi si incontrano a un'altezza di 15 metri, quindi esattamente a metà strada, viene chiesto di calcolare la velocità iniziale del secondo sasso e la velocità che hanno i due sassi quando si incontrano. Quindi abbiamo, immaginiamo al nostro l'asse delle y, y, abbiamo una certa quota y con 0 che possiamo porre uguale a 0, a un certo istante t con 0 uguale a 0 abbiamo il primo sasso, il secondo sasso possiamo chiamarlo A e B e qui ha una certa quota y con 0 B, y con 0 A, quindi una quota di partenza y con 0 A e abbiamo il nostro sasso A che viene lasciato cadere. Mentre y con 0 B è la quota iniziale del sasso B, questo qui viene invece lanciato con una certa velocità B con B0 che è la velocità iniziale del sasso B, mentre questo viene lasciato cadere quindi a una velocità iniziale B con A0, B con A0 che è esattamente uguale a 0. Quindi questo comincia a scendere, questo comincia a salire e si incontrano a metà strada, una certa quota y con 1 all'istante t con 1. Vogliamo sapere qual è la velocità iniziale del secondo sasso e la velocità che hanno quando si incontrano. Allora possiamo cominciare col calcolarci il tempo che impiegano questi sassi a incontrarsi, per esempio andando a scriverci l'equazione del moto del sasso A, sappiamo che la y del sasso A sarà nella quota y con 1 sarà uguale a y con 1 e quando avremo y con 1 sarà uguale a y con 0 a, la quota iniziale del sasso A, più la sua velocità iniziale B a 0 per t con 1 meno t con 0 meno un mezzo g per t con 1 meno t con 0 al quadrato. Il nostro t con 0 per convenzione l'abbiamo scelto uguale a 0, la nostra velocità via con 0, la velocità iniziale del sasso A è esattamente uguale a 0, quindi questo pezzo salta, il t con 0 salta e quindi viene fuori che da questa relazione ci possiamo ricavare il tempo, facendo i calcoli viene fuori che t con 1 è uguale alla radice quadrata di 2 per y con 0 a meno y con 1, quindi la differenza tra le quote, questo tratto qua, diviso g. Quindi questo ci permette di ricavare il tempo che impiega il sasso ad arrivare a questa quota, quindi il tempo che impiegano i due sassi a incontrarsi e questo se andiamo a fare le nostre sostituzioni è pari a 1,75 secondi. Una volta trovato il tempo ci possiamo ricavare le due velocità, questo che scende di quello che sale, semplicemente utilizzando, anzi prima ci possiamo ricavare la velocità di partenza di questo qui, utilizzando anche in questo caso la relazione che ci dà la y del sasso A, del sasso B. La y del sasso B sarà uguale a y con 1 quando, quindi y con 1 sarà dato da y con 0 del sasso B più v con B0, la velocità iniziale del sasso B per t con 1 meno t con 0 meno un mezzo g per t con 1 meno t con 0 al quadrato. Quindi al solito la nostra posizione, il nostro sasso raggiungerà la posizione y con 1 all'istante t con 1 quando parte da y con 0 b con una certa velocità vb0 e con l'accelerazione di gravità g. In questa relazione quindi abbiamo la velocità che è nota, il tempo t con 1 è noto perché la velocità iniziale non è nota. Conosciamo il tempo t con 1, conosciamo l'accelerazione ovviamente e conosciamo le quote, le y con 1 e le y con 0 b che per ipotesi è uguale a 0. Quindi questa viene eliminata, il t con 0 per ipotesi è anche su uguale a 0, quindi ci risulta, ci viene fuori y con 1 più v con B0 per t con 1 meno un mezzo g per t con 1 al quadrato, y con 1 uguale, uguale a questa cosa qua e da questa ci possiamo ricavare la nostra vb0. La nostra vb0 quindi sarà uguale a y con 1 meno un mezzo g t con 1 al quadrato fratto t con 1. T con 1 è il valore che abbiamo appena ricavato che è qui su, g lo conosciamo, y con 1 è la nostra quota pari a 15 metri, quindi facendo le sostituzioni questo risulta può essere uguale a 17.15 metri al secondo. Quindi questa è la velocità iniziale vb0, allora nota la velocità iniziale vb0 e nota la velocità iniziale v a0 che era pari a 0 perché il primo sasso veniva lasciato cadere, ci possiamo ricavare le due velocità, le velocità dei due sassi in questo punto all'istante t con 1, quindi abbiamo che la nostra cominciamo dalla v con a, la v a1 sarà uguale alla v a con 0, quindi quella iniziale, meno g per t con 1, sarebbe t con 1 meno t con 0 ma t con 0 uguale a 0, allora la nostra velocità iniziale del sasso a è pari a 0, quindi questo risulta semplicemente meno g per t con 1, ossia meno 17.15 metri al secondo, quindi risulta in modulo, quando ci troviamo qua sotto, esattamente uguale, ma cambiata di sana negativa, adesso il basso, quindi risulta esattamente uguale a quella di partenza del nostro sasso e se accendiamo a ricavare quella finale del nostro sasso di sotto, quindi vb1, questo sarà uguale a vb0 meno g per t con 1 e questo sarà esattamente uguale a 0, se andiamo a fare i nostri conti, anche perché diciamo che proprio questa qui è esattamente uguale a vb0 e 17.15, quindi se uno va a fare la sostituzione si accorge che la velocità del nostro sasso che partiva dal basso quando arriva qua è esattamente uguale a 0, quindi i due sassi si incontrano a metà strada, uno è con una velocità diretta verso il basso, vb1 e l'alto invece è fermo nell'istante di massima altezza e poi ricomincerà a scendere. In questo esercizio abbiamo un giocatore di pallacanestro che fa un salto verso l'alto raggiungendo un'altezza massima di 76 cm, viene chiesto di calcolare quanto tempo impiega percorrere gli ultimi 15 cm del salto e i primi 15 cm, quindi abbiamo, se questo è il nostro asse y, non sempre diretto verso l'alto, il nostro giocatore parte da una quota di partenza y con 0 che possiamo porre uguale a 0, all'istante t con 0 uguale a 0, dopo i primi 15 cm, quindi si troverà a un certo istante t con 1 a una quota y con 1 con y con 1 appunto uguale a 15 cm, poi dopo raggiungerà una quota y all'istante t con 2 e una quota y con 2, e poi alla fine all'istante t con 3 raggiungerà la quota y con 3 che è proprio la quota massima ed è pari a 76 cm, quindi y con 3 è uguale a 76 cm, questo y con 2 e sarebbero gli ultimi 15 cm di percorso, quindi sarebbe y con 3 meno 15 cm, quindi sarebbe il nostro 76 meno 15 cm, quindi il nostro sarà 61 cm. A questo punto quindi dobbiamo calcolarci il tempo che impiega percorrere questo primo tratto e questo ultimo tratto, quindi il tempo t con 1 meno t con 0, l'istante t con 1, e la differenza di tempo t con 3 meno t con 2, che è il tempo che impiega percorrere questo ultimo tratto qua. Allora, cominciamo a calcolarci la velocità iniziale, per far questo teniamo conto che arriviamo alla quota y con 3 con, visto che è la quota massima, con velocità massima, con velocità uguale a 0, quindi se andiamo a scriverci le relazioni che ci legano le velocità, possiamo scrivere che la mia velocità finale, quindi quella v con 3, qui avremo v con 3, v con 2 e v con 1, la mia v con 3 la prendiamo come velocità finale, al quadrato, questo è uguale alla mia velocità iniziale qui, v con 0, a v con 0 al quadrato meno 2 per g per, sarebbe y con 3, la quota l'istante t con 3, meno y con 0, la quota iniziale. Il nostro y con 0 per scelta è uguale a 0, quindi la nostra v con 3 è uguale a 0 perché abbiamo detto che è la quota massima, quindi da questa relazione ci possiamo ricavare la nostra v con 0, che risulta essere uguale al quadrato a 2 per g per y con 3, quindi la nostra v con 0 è la radice di 2g per y con 3, andando a sostituire questa risulta essere uguale a 3.86 metri sul secondo. Quindi in questo modo abbiamo trovato la velocità iniziale, a questo punto possiamo ricavarci il tempo t con 1, quindi il tempo che impieghiamo ad arrivare qua sopra utilizzando la relazione che ci dà la quota y con 1, questa quota qua, in funzione della y con 0, la quota iniziale, più la velocità iniziale v con 0, quella che abbiamo qui, quindi in questo punto, v con 0 per t con 1 meno t con 0, meno un mezzo g per t con 1 meno t con 0 al quadrato. Quindi da questa relazione ovviamente la y con 1 la conosciamo perché sappiamo dove dobbiamo arrivare, sono i primi 15 centimetri, la y con 0 è pari a 0 per ipotesi, la v con 0 la conosciamo, la t con 0 è pari a 0 per la nostra costruzione e quindi vi rimane un'equazione in t quadro, quindi verrebbe fuori 1y con 1 uguale v con 0 per t con 1 meno un mezzo g per t con 1 al quadrato. Quindi viene in forma un'equazione in t con 1 che è la nostra incognita di secondo grado, se andiamo a sostituire i valori di y con 1, 15 centimetri, i valori di v con 0 che conosciamo perché abbiamo appena calcolato 3.86 metri e il valore qui della nostra 9 punto dell'accelerazione di gravità, viene fuori un'equazione del tipo 4.9 per t al quadrato meno 3.8 per t con 1 al quadrato, meno 3.86 per t con 1 più 0.15 uguale 0. Quindi questa è un'equazione di secondo grado nell'incognita t con 1, se la andiamo a risolvere otteniamo che la nostra t con 1 ha due soluzioni, una è 0.041 secondi e l'altra è 4,21 secondi. ovviamente i tempi che ricaviamo sono due perché in effetti il nostro giocatore passerà due volte da questa quota, la quota di y con 1, una volta mentre sta salendo e una volta mentre sta ridiscendendo. Però a schermo a noi interessa il tempo nella fase iniziale del salto, nella parte in salita, è evidente che questo istante, questo tempo sarà quello più breve perché poi quello più lungo sarà relativo al passaggio nella fase di discesa. Quindi quello che ci interessa è questa soluzione qua. Quindi il tempo per percorrere i primi 15 cm è il nostro t con 1 uguale 0.041 secondi. Infine se vogliamo andare a trovarci il tempo per percorrere quest'ultimo tratto, possiamo cominciare con il ricavarci la nostra v con 2, la nostra velocità v con 2. La nostra velocità v con 2 è legata ad esempio alla velocità finale, la possiamo scrivere in questo modo. La nostra velocità finale v con 3 al quadrato è uguale alla velocità iniziale, supponiamo di prendere come istante iniziale l'istante t con 2, quindi v con 2 al quadrato meno 2g per y con 3 meno y con 2 che sarebbe la nostra quota. Quindi da questa relazione ci possiamo ricavare, tenuto conto che la v con 3 è uguale a 0 e che y con 3 meno y con 2 lo conosciamo perché è questo tratto qua, quindi sono i nostri 15 cm, questa differenza qua quindi sono i nostri 15 cm, da questa ci possiamo ricavare la nostra velocità all'istante v con 2, quindi la nostra v con 2 risulta uguale facendo le sostituzioni e facendo la radice quadra 1.71 metri al secondo. A questo punto una volta che abbiamo la nostra v con 2 e conosciamo la v con 3, possiamo dalla relazione tra v con 2 e v con 3 ricavarci il tempo perché sappiamo che la v con 3 la possiamo scrivere come v con 2 che meno g che moltiplica t con 3 meno t con 2, quindi l'istante finale e l'istante iniziale. Allora v con 3 è uguale a 0 e quindi il nostro t con 3 meno t con 2, la differenza di tempo che passa tra il passaggio del punto 3 e il passaggio del punto 2 è semplicemente uguale a v con 2 fratto g. Quindi v con 2 l'abbiamo appena ricavato, g lo conosciamo, se andiamo a fare la nostra sostituzione, questo ci dà 0.175 secondi.